Sulla materassina B, ripescaggio a 76 kg, della Germania, Alina, Rotel, Fokin, della Polonia, Avila, Cesslava, Pulvicca. Sulla materassina C, ripescaggio a 68 kg, della Germania, Alina, Salciata, Belorussi. Salciata, Belorussi. Grazie. 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 Por shield red. Two beautiful. One more one more. One more one more. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.